Cari amici di Sfiscia Notizia, ci troviamo qui a Vasto, al liceo scientifico, per testimoniare l'ennesimo caso di una discarica abusiva. Ci sono giunte numerose segnalazioni e adesso vi faremo vedere che cosa è successo. Andiamo. La matematica è un'opinione! La matematica è un'opinione! Bene amici, scusate l'interruzione, ma abbiamo risolto il problema. Comunque, come potete notare, qui la natura sembra incontaminata. C'è un bellissimo paesaggio di Ulivi, ma guardate cosa si cela in questo splendido paesaggio. Vediamo cosa ne pensa la gente di Vasto di questo scempio. Qui il problema sono i gatti migratori. Vengono qui, fanno i figli, le feci e alla fine combinano questo macerchio. Prendono anche banche e sedie della scuola. Questo è. Cosa vogliamo? Ringraziamo il signor Badillo e andiamo! Segnaleremo il problema alle autorità competenti. Bene, da Vasto di tutto, Tabio e Gingo a Stigiano Di. Oh no 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 no